Allora, come potete vedere, Kiko è innamorato dei miei piedi, delle mie scarpe, delle mie ciabatte, e non so, gli è presa questa mania, gli piace coccolarsi sui miei piedi. E Kiko, 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 saluta, ciao Kiketo, si vede che trova le suole delle scarpe massaggianti, che ne so, Kiko, alzi sempre la zampetta, che alzi a fare la zampetta? E allora, dov'è la perla? È andata a mangiarsi il biscottino? Dov'è andata la perla? Sveglia, 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 guardate che orecchie! Facciamo a gara chi batte più forte! Quest'inverno sarai uno scaldino perfetto per i miei piedi, vero? Anche perché tu, al contrario della perla, non vai sotto la pioggia, non ti bagni, invece l'hai sempre per lo bagnato. Sì, voi vedete a casa mia che è sempre un casino, ma ci stiamo ancora sistemando, stiamo facendo dei lavori, e quindi anche fuori dove ci sono le cucce, c'è un bel caos, vero Kiko? Pazienza, purtroppo non sono stati fatti prima questi lavori, quindi bisogna farli adesso, vero? Attenti, attenti che arriva! Attenti che arriva la principessa! Ah, la festeggiata, ciao perla, ciao, ciao! Non mi vuoi mangiare anche a me? Quando arriva lei, arriva anche lui che è geloso, no? Aiuto! Mata qua! Vieni in braccio della Roby! Perla! Eh, è la cartina, è la cartina, sono assediata, è vuota, vedi? No, niente, non riesco a far venire in braccio la perla, non ci riesco! Vero Kiko? Non ci si riesce! Niente da fare! Eh, sale in braccio solamente se... Oh mamma mia, gli occhi rossi, Kiko! Cos'hai? Sale in braccio solamente se io salgo in macchina, lei si mette sul sedile posteriore, scusa, del passeggero, e allora un po' alla volta sale sulle mie ginocchia, se no niente, non riesco a prenderla questa birbante! Che facciamo di questa birbante? Che facciamo di questa birbante? Eh, pernina! Amore mio, dai, sali qua! Sali in braccio! Dai! Ah, insomma... E voi mi direte, ma perché non la prendi tu? Perché morde ringhia la signorina? E quindi mi devo adeguare a lei! Invece Kiko si fa prendere con niente! Cucù! Monsignore, aiuto! Siete talmente vicini che non riesco neanche a riprendervi! Chi... Sì, Kika! Perla e la sua aria minacciosa! Che paura! Che paura! Che paura, perla! Din, 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 din! Viva! No, aspetta! Vediamo! Qui! Ah! Au! Le unie perla! Cristo santo! È vuoto tanto! Dove vai? Ehi! Allora, credo che abbia capito che il sacchettino era vuoto! Sei arrabbiata, perla? Eh? Dove vai? Secondo me ha capito che era vuoto! Perlina! Ecco, lei si mette l'acqua... Ogni volta che è arrabbiata, si mette lì! Dai, tolta lo scherzo! Dove l'hai messo adesso il sacchetto? Della serie non te lo dico, rimane il mio anche se è vuoto! Vero? E vabbè, pazienza! Vediamo se riesco a tirarmi su, perché sono vecchietta! Vieni a giocare un po'? Dai, vieni, vieni qua! Vieni, perla! Dai che devo giocare! Dai! Dai! Guarda, qua ne ho un altro! Ne ho un altro, davvero! E' pieno di roba! E' pieno! E' pieno! Sì, vieni! E' pieno, Kika! Non sei tanto convinta, vero? Lo vuoi? Lo vuoi, Kika? Lo diamo a Kiko! Lo diamo a Kiko! Ma io cosa farei senza di voi due, eh? Eh, guardate che musetti che hanno questi due! Ma come si fa a fare del male agli animali? Guarda, Kiko! Che occhietti belli! La perlina! Guardate! Pensate che c'è chi vi fa del male, eh? Vero, Kiko? Magari se eviti di stannuttirmi addosso è meglio! Non ci caschi più, vero? Fai bene!